Salve, sono Silvia Lapergole e oggi vi parlo dell'allestimento della mostra Gio Ponti Amare l'architettura. Il progetto di allestimento porta il racconto curatoriale negli spazi della Galleria 5. La galleria che dal punto di vista del rapporto, della sequenza spaziale, del rapporto tra il pavimento e il soffitto è lo spazio più inatteso, più spettacolare dell'intero museo. Il layout dell'allestimento organizza le otto sezioni tematiche e la sezione fotografica degli sguardi contemporanei in un sistema fluido dinamico di stanze dalla forma del cristallo. Sono stanze aperte, definite da pareti espositive autoportanti sollevate da pavimento e da terra che assecondano il movimento ascensionale del visitatore verso la finestra della Galleria 5. La fluidità degli spazi è tenuta insieme a un'idea pontiana, quella dell'unitarietà della visione, i famosi occhi che troviamo all'interno delle planimetrie dei progetti di ponti, che ci indicano l'importanza di individuare punti di fuga lontani che mettano in connessione sequenzi di spazi per renderli unici. La singolarità dello spazio della Galleria 5, uno spazio performativo che originariamente nel progetto era stato pensato da Zadid per essere l'auditorium del complesso poi spostato al piano terra, è questo pavimento, una rampa inclinata con una pendenza quasi costante di circa il 10%. Per correggere questa singolarità del pavimento l'allestimento ha organizzato un sistema di piani orizzontali, di pedane che matericamente sono trattate come le pareti espositive su cui abbiamo collocato i plastici di Gio Ponti. Vi ho portato qui, nello spazio della lounge, nell'intimità della casa di Viadezza, la casa manifesto di Gio Ponti. Siamo sotto lo sguardo del ritratto di Campigli, allestito come un oggetto di famiglia. L'environment della mostra è un contesto sensoriale stimolante, coerente con l'opera di Ponti, espressione della sua architettura. Per realizzare questo ho applicato le formule magiche dell'architettura pontiana, la smaterializzazione del peso dei pannelli attraverso la struttura vista, i piedini che ricordano le maniglie di Gio Ponti o i terminali dei pannelli che non si incontrano, come i lati dei grattacielo Pirelli. La luce, quella naturale che porta le ombre delle pedane sul pavimento e le deforma, e quella della luce artificiale, le linee inserite all'interno delle stelle, della pannellatura. Ed infine il colore. Tutto il mondo deve essere coloratissimo, ci ricorda il maestro, e così in mostra abbiamo portato laminati, luminescenti, in una palette di colori cristallini che a Gio Ponti sarebbero molto piaciuti. Grazie a tutti.